vuoi una moto vieni da giudici moto ragazzi new entry una bellissima kawasaki vs gran tourer ovviamente è da preparare a dovere come potete vedere è usata ma noi la faremo tornare nuova ed eccola al termine della preparazione la nostra bellissima kawasaki vs 650 gran tourer immatricolata nel 2017 con soli 24 mila chilometri ragazzi la moto è super equipaggiata fendinebbia paramotore abs tris di bauli ufficiali kawasaki insomma veramente introvabile in questa condizione se siete curiosi di vedere come è stata preparata rimanete a vedere il video grazie il nostro francesco davvero molto bravo si vedono i risultati ma ciò che fa la differenza in questo lavoro è proprio la buona volontà la voglia e la passione perché per tirare una moto in queste condizioni ragazzi bisogna veramente sapere cosa si fa affidatevi a noi grazie